Ma oggi è un altro giorno e il nostro eroe è pronto per scendere in campo Secondo voi ce la farà o fallirà come la volta scorsa? L'unica cosa che vi chiedo è un like da subito per supportare me ma soprattutto per supportare il mio stomaco E niente, bon appetit! Bella ragazzi, qui Frenesi e già sapete cosa andremo a fare La postazione già la conoscete, oggi siamo qui regà contro la pizza E non sono pizze qualsiasi, mezzo metro una e mezzo metro l'altra Per il totale di un metro Io regà ovviamente sono andato pure a farcirmela sopra Ci ho fatto mettere funghi e prosciutto crudo o cotto, non lo so Perché la margherita regà è da pussi e noi non siamo pussi E io intanto parto da questa che mi sembra un po' più una merda Si è un po' affreddata però non ce ne frega un cazzo A differenza dell'altra volta voglio mangiare un po' più calmo Lì sempre c'ho il cronometro che è sincato insieme al microfono Quindi alla fine andremo a vedere quanto ci abbiamo messo Questa regà di pizza c'ha un aspetto decisamente migliore Che poi oltretutto Vedete è pure bella spessa e bella tozza Perché gliel'ho detto io di farmela così Fina, 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 margherita regà Ve l'ho detto Non fa per noi Procediamo bene E' diventata già fredda come un ghiacciolo Mi sembra che sta a mangiare polaretti Ah regà io ovviamente la crosta a me mi fa schifo al cazzo Cioè l'ho mangiato al primo pezzo ma poi fredda messa in malloppa tutta Regà voi ce li vedete scherzate ma qua manca sta parte che non so se si vede Tipo quattro pezzi Io regà comunque quando faccio queste sfide Mi sono reso conto dall'ultimo video che mangio veramente male Ma solo quando faccio queste cose Cioè sembro tipo un veloci raptor Un dinosauro che non ha mai visto il cibo Sono rimasti quattro pezzi precisi E mezzo metro è andato Dopo mezzo metro Credo che un goccetto d'acqua Che se no regà questa si è malloppa Le croste le voglio mettere dritto Almeno non voglio far vedere che baro E regà mezzo metro è andato Come potete vedere pure dalle croste Non ho barato Ho lasciato proprio quelle fino alla fine E me passiamo a quest'altro mezzo metro Che regà Cioè ditemelo pure voi nei commenti Sta seconda pizza sembra migliore della prima Sembra che c'è più mozzarella Più roba È solo che è fredda un botto Già questa qua era tiepida Questa è È un po' un ordine in persona Posso bravo Vai bravo Regà ma è stato iniziato al momento Quello di depressione Io stavolta regà ce la devo fare per voi Perché ogni sfida regà non si può perdere Cioè la volta scorsa abbiamo perso Ora non posso In più ora Ho imparato Una cosa fondamentale Bere meno acqua possibile Cosa che nel primo episodio non avevo fatto Un altro coccetto d'acqua A me incomincio a una fase Senti i pezzi Forse l'idea dei funghi Non è stata troppo azzeccata Incominciano a essere acidi Che è sterbetta nella mia pizza Regà sta faccia non la sto fa Perché mi viene da sbottare Sta faccia la sto fa Perché c'è la rucola Su sto pezzo di pizza Che non mi piace Amara Ce l'ha fottuta rucola Faccia la rucola questa pizza Chi dà c'è la rucola Guarda quanto la caricata dei funghi Mi goccio la nasa ogni volta che faccio ste cose Non mi dici che vuol dire Devo spellere l'aria Sono il mostro nella city Non posso fermarmi adesso E' che è diventata proprio fredda E' quello il brutto delle cose Ci vorrebbe tipo una piastretta qua La fico dentro Una scaldata Non mi dici che vuol dire Ragazzi Mancano uno Due E tre pezzi Mamma mia Maronna tangrispina In realtà quattro Ma questo lo faccio diventare un solo pezzo C'è la rucola dentro sta cazzo di pizza Porco due quanto state rucola Ma chi è? Ma gli ho detto cotto e funghi No rucola Sti funghi Sti funghi Oramai se vado sul prato Qua dietro al parco E me li metto sopra la pizza E' uguale Dio Due pezzi Due pezzi Gliela devo fare Due pezzi Due 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 Ondaa Super Energetica c'è lo stomaco che brucia questo pomodoro è diventato acido frago non voglio andare più giù a me ci vorrebbe la canzone di Gianmarco insieme a Chakra che babbaro ah raga l'ultimo pezzo non devo sbottare non devo sbottare leva quella roba leva quella roba fra Renzi canta coerz finito fra è finito dai si dai i veri eroe non mollano mai la volta scorsa v'ho deluso raga sto giro a pizza non po' fotte me ma ma dio poi me l'ho fatta fa pure farcito apposta pure la crosta su st'ultimo pezzo è fatta è fatta cazzo 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 29 minuti 29 minuti e 57 no 30 minuti proprio allargarla ah raga quindi come avete potuto vedere anche la prima qua abbiamo finito io spero che raga il video vi sia piaciuto se fosse così come al solito vi ricordo di lasciare un bel like cozzo se volete altre sfide del genere e magari consigliatemelo pure nei commenti vi auguro buona giornata dal Fren è tutto e pure da Jamie Dites zeeeee i could use a dream or a dream or a wish to go back to a place much simpler than this ja